Salve a tutti giocatori e benvenuti nel terzo video del giorno, non mi aspettavo di fare tre video a Pasqua ma qui siamo Allora, premessa, registro questo video alle 4 e mezza, ma non metterlo verso le 5 e mezza, 6 In modo da dare un po' di tempo al video della profile Dark Magician Albats che ho pubblicato qualche mezzo ora fa Quindi, per avere uno squarcio temporale, anche un po' per voi perché penso vi rincoglionite a vedere 300.000 video tutti quanti insieme Quindi, mettere a raffiglia, penso che un po' anche a voi, dopo un po' dicere, sì, ok, ma mi stai un po', sto andando così confuso da colpirmi da solo Bene, prima di iniziare, come sempre, vi invito a scrivere la suonale, basta il link sotto nella descrizione per mettere sempre a giornale con il mondo di Yugi Meglio di così, cioè pure a Pasqua, insomma Allora, per la rubrica, non bastano gli Albats, ne facciamo un altro Albats The Ashen, sì, altri supporti per l'archetipo che ormai è diventato... È diventato meglio del mago nero perché ormai è così Va bene, Albats The Ashen, livello 4008 Il nome di questa carta diventa Fallen of Albats mentre al terreno nel cimitero Quindi che bello quando ti mandi lui ed Albats insieme nel cimitero così poi sei proprio tranquillo che puoi utilizzare pure questo, quello che ti pare Bello Quando abbiamo un mostro livello 8, fusione nel cimitero, questa carta vale 200 di attacco per ogni mostro del cimitero In più l'oppo non può targettare i mostri e controlliamo con gli effetti delle carte eccetto lui Mi sembrava giusto perché nel mazzo mancava qualcosa che non faceva targettare Scemmo io che giocavo il fangodrago delle paludi nell'air mischiato da Albats per non farmi di targettare Ora c'è The Ashen quindi a posto Se un mostro che controlliamo l'ascia e il terreno a causa di un effetto della carta Mentre questa carta è un mostro fusione e sono nel cimitero Possiamo speciare questa carta ogni effetto una volta per turno Ok, vabbè, comunque per me è buono perché puoi sempre utilizzartelo in qualche maniera Poi ti rende anche i mostri e i controlli targettabili Tanti mostri li all'otto li mandi al cimitero con Ice Blade e con l'altra roba Quindi a voglia a te Carta trappolina, Branded Separation Tributiamo un mostro fusione per targettare due mostri non fusione che sono bandini oppure nel cimitero Specialiamo uno in entrambi i terreni Se il mostro tributato fusione menziona Fallon of Albats cosa che tranquillamente farà Gli evochiamo entrambi sul nostro terreno in posizione di difesa Possiamo attirare questo effetto una volta per turno Allora, carino perché ti dà modo di riciclare Carino perché ti permette di evocare Albats anche nel turno dell'op Foglia Super Poli Metti che poi Per casualità di fattori non tributiamo un mostro che menziona Fallon of Albats Possiamo comunque, anche se lo cagliamo nel terreno dell'avversario Utilizzarlo come materiale fusione quando cagliamo il caduto Quindi secondo me va bene Quindi sono due carte abbastanza buone Cioè ci stanno mettendo un sacco di roba Io la tavola loro neanche la sto guardando sinceramente Però so che voi comunque siete molto aggiornati Molto Siete molto informatizzati E quindi sicuramente voi apprezzerete le artwork molto più di me Cioè comunque già da esterno sono molto belle Chi poi conosce la loro e tutto quanto le apprezzerà ancora di più Detto questo ragazzi Io per oggi basta Basta Se esce un altro aggiornamento oggi non lo porto Basta E poi ho registrato anche un video per Per domani Quindi vabbè Detto questo Fatemi sapere cosa ne pensate Noi come sempre ci vediamo al prossimo video E un saluto a tutti Grazie a tutti